buongiorno a tutti amici di matto scacco oggi giocheremo contro avversari potentissimi proviamo 10 minuti senza incremento anche se ci sa che caratteristica di matto scacco soffrire il tempo chiunque faccia video per matto scacco attenzione contro giocatore brasiliano molto molto forte lo proviamo a sorprendere con una aliekin vediamo un po apertura dubbia apertura dubbia ma forse proprio quell'essere dubbio in questo modo ci può ci può aiutare a a sorprenderlo perché spesso i giocatori così forti non si non si allena contro aperturine di questo tipo qui no e quindi ci sta adesso mi aspetto qualsiasi cosa ok mi vuoi fare qualche trucco qui mi vuoi fare qualche trucco catturo tac 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 non capisco che trucco tu voglia farmi ma ci sarà tac 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 esco fuori allo scoperto corre scacco ok faccio ancora fatica a capire il trucco che mi vuole fare ma so che questa cattura non è non è buona no perché mi dai due pezzi leggeri per la torre pedone e i due pezzi leggeri valgono di più no quindi adesso c'è tensione qui sopra può arrivare anche cavallo c6 che aumenta la tensione tra l'altro su questa cattura perde l'arrocco adesso dovrebbe arroccare ma qui perde il pedone credo che ci stia pensando su questa cattura ma forse pensava di spingere non so bene cosa abbia in mente forse vuole spingere qui vuole spingere urco questo è molto aggressivo questo è cattivo aggressivo compulsivo allora qui c'è possibilità di chiudere che non è male se io catturo arriva allo scacco d'alfiere me ne vado ed è finita lì se io catturo arriva il cavallo e non è finita lì perché c'è il maledettissimo dopo cavallo dopo cavallo e qui ho catturato potrei giocare la spinta in e6 attenzione che ho sotto la donna quindi non si può defare non si può defare quindi o gioco e6 o gioco d5 immediatamente forse d5 immediata mi da qualche speranza in più per il futuro e 6 e 6 permette sempre questa quindi in realtà non è da escludere così tanto e 6 non mi piace il buco che viene creato qua e 6 e 6 si rimane qui qualcosa in sospeso e 6 però permette questa permette questa ok d5 scelto basta giochiamo in maniera solida c5 nell'aere c5 nell'aere sono felice di aver chiuso questo alfiere ma questo alfiere si riposizionerà in qualche modo troverà comunque una sua strada per il futuro adesso il vero problema è dare vita a questo cavallo quindi piacerebbe metterlo in cc spingere c5 per mettere il cavallo in c6 vediamo un po' come può avanzare qui la situa questo cavallo è molto molto fastidioso h6 interessante interessante per lui anche h4 però credo che su h6 onestamente che ritiri il cavallo forse qui però se è possibile voglio non troppo muovere questi pedoni dell'arrocco c5 pedone c3 cavallo c6 no non si può fare c5 perché se mi catturo qui devo andare via col cavallo e perdo questo pedone a meno che io non vada col cavallo in c4 che è possibile che è possibile c5 pedone per cavallo c4 è assolutamente possibile cavallo d2 no non si può perché poi catturo qui c5 sì la prossima che mossa mi aspetto dal mio avversario mi aspetto sì un c3 per far scappare l'alfiere mi aspetto questa per rompermi le scatole al cavallo questa mi romperebbe abbastanza sta calcolando ok sta calcolando questa spinta h5 sta calcolando h5 mi piacerebbe giocare a me h5 credo che a questo punto lo farò credo che a questo punto lo farò perché ho paura che la situazione possa diventare ingovernabile è anche vero che dopo c3 qui qui c'è un po' di allora se fa questa è un problema perché io gioco h4 c5 le spinte sulle ali vanno contrastate con del gioco al centro questa è la prima legge degli scacchi però dopo questa cattura cattura vai io seguo la teoria ma proprio in maniera quasi religiosa quasi religiosa non calcolo neanche cosa possa succedere h5 forse va del potenziale ma non calcolo non calcolo le spinte sulle ali corrispondono rotture centrali quindi andiamo andiamo facciamo capire al nostro avversario che abbiamo ragione lui che ha torto che abbiamo ragione noi che ha torto lui ma in realtà scopriremo totalmente il contrario cavallo c6 adesso finalmente finalmente cavallo c6 sembra essere buona minaccio cattura con cattura quindi devi giocare probabilmente al fiere 3 vediamo se riusciamo a inventarci qualcosa h6 è sempre possibile che lo costringerebbe a cavallo h3 che non mi sembra particolarmente bella al fiere 3 per supportare lì tutto quell'ambaradam al fiere 3 al fiere 3 stavo vedendo se c'era qualcosa di bello cattura cattura di pedone cattura cattura di pedone cavallo in a5 cavallo qui cavallo c4 attacco sull'alfiere su b2 cattura cattura tac eh sì qui devo fare qualcosa perché se non faccio f6 può essere interessante f6 diamogli un occhio perché giusto per non escludere nullo f6 minaccio la cattura minaccio la cattura e la scoperta quindi su f6 mamma che brutta questa che brutta dovrei giocare un c4 al fiere c2 f6 se lui cattura catturo con la torre no è brutta f6 non si può fare dai la escludiamo questa però mi questa però onestamente non mi dispiaceva attacco qui sopra il cavallo si riposizionerà in c4 e ci sono sempre idee di sacrificio qui eh ci sono sempre ci sono sempre idee di sacrificio qui sopra sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? vienici a trovare su mattoscacco.com scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo devo vedere se se si può fare qualcosa di ok lui se ne sbatte completamente io posso fare questa se lui arriva con la donna questa se arriva col pedone forse sempre questa 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 così mi permette donna a5 o donna b6 si questo cavallo se ne deve andare da qui assolutamente questi questi sacrifici qui tac 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 oppure tac 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 allora dato che questo pedone non me ne faccio niente giochiamo prima questa ok va bene sono d'accordo con la tua scelta e ora se il gioco qui arriva a b3 arriva a b3 e arriva a donna a5 scacco b3 donna a5 scacco e forse la situazione inizia quasi a piacermi perché b3 toglie per lui il sostegno uuuuuh 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 cosa ha visto che cosa non ho visto io cattura ah 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 eh questa è bella questa è bella questa è bella e quando una cosa è bella bisogna dirlo eh vediamo se ho del controgioco in qualche modo allora se tolgo qui la torre arriva a cattura qui penso che la torre debba rimanere questo purtroppo non posso proprio prenderlo tac tac si prende miliardi di pedoni che infame non l'avevo vista non l'avevo considerata zero questa e qui prendo il tempo sulla donna alfiere che poi l'alfiere minaccia di prendere qui tac tac alfiere ehm torre donna a5 o prima re non lo so non lo so è la situazione inizia a farsi critica donna b6 torre donna qui il cavallo probabilmente si sacrifica su g6 c'ho uno scacchino qui tac prendo la torre situazione critica situazione inizia a essere critica su donna b6 alfiere b3 può esserci anche 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 alfiere b3 può esserci ok giochiamo giochiamo qualcosa perché qualcosa ci la dobbiamo giocare vai proviamo proviamo il tutto per tutto anche il sacrificio qui secondo me aveva aveva qualche possibilità vediamo se riuscirò a distrarlo con queste magie cattura cattura d'alfiere probabilmente poi arriva alfiere b3 e finisce il giochino invece tac tac metto un po' di pepe alla situazione mettiamo un po' di pepe mamma mia che cosa sta facendo quest'essere se arriva con la donna qui tac h6 ok io questa quasi quasi la faccio perché su questa poi lui non ha altri modi per darmi scacco quindi io la faccio io la faccio è attualmente un più 6 di materiale su donna qui c'ho questa quindi devi giocare re qui o re qui ma cade la torre e io ho un alfiere un cavallo in attacco una regina secondo me potrebbe essere quasi promettente la situazione io sono al limite del matto cioè sto per prendere matto da un momento all'altro è bene è bene saperlo è importante che queste cose si sappiano magari ora non so cosa possa arrivare ma è bene ma è bene che queste cose si sappiano sono al limite del matto proprio limite legale del matto adesso c'è un attacco qui c'è uno scacco d'alfiere qui e poi c'è una torre qui secondo me lo scacco con torre qui secondo me qualche possibilità ce l'ha forse era meglio se andava sul nero perché adesso mi permette proprio questo scacco che secondo me è fortissimo su questa secondo me questo scacco è più forte c'è poco da fare deve tipo tornare in difesa con la donna tipo donna qui tipo donna qui anche però io cosa ho ho ok mi vuoi dare matto e questo è chiaro però c'ho prima scacco c'ho prima scacco poi questa e il matto non c'è più e il matto non c'è più e la situazione si sta ribaltando signori la situazione si sta non chiedetemi come erroracci bruttissimi qui si potrebbe perdere anche per il tempo onestamente il re dove andrà andrà in fuga da queste parti forse c'è anche il matto di donna a un certo punto secondo me se me la gioco bene c'è anche il matto però bisogna vederlo al matto senza sapere leggere e scrivere io giocherei questa poi ci attacco anche sull'alfiere questa è brutta questa per lui è brutta peccato perché aveva visto dei sacrifici che io onestamente non avevo minimamente visto ok ok non so perché l'ha messo proprio qui va bene ragazzi non non so perché ci ha pensato così tempo così tanto tempo poi ha fatto la mossa credo peggiore che potesse fare va bene e andiamo a 2223 punti signori allora andiamo a revisionare questa pessima partita bruttissima veramente 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 qualcosa di di inguardabile però almeno ci facciamo un 4 risate no altrimenti qui vediamo esisteva questa ah allora è sbagliata allora si vede che la conosceva perché arrocco qui è proprio sbagliato perché forse arrivava e6 qui d5 ok forse se mi faceva e6 qui diceva il motore mi faceva e6 subito sì forse questa non era la cosa più bella del mondo perché ah arriva il cavallo f7 ah 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 non l'abbiamo vista nessuno dei due d5 subito ci voleva d5 invece l'ho giocata adesso e qui ok c5 terza scelta del motore sparita addirittura fra le scelte c'è un cavallo c6 h6 qui addirittura sta un pelino meglio il nero non l'avrei detto gioco c5 quel gioca diceva che addirittura era meglio catturare per lui io avrei giocato cavallo c4 come dicevo e qui secondo me questi due pedoni cadranno prima o poi no beh poi il computer è sempre molto analitico no l'essere umano va molto per sensazioni cavallo c6 alfiere 3 e qui ho giocato questa questa ok sempre vantaggio del nero f6 esisteva veramente non ci posso credere che esisteva veramente f6 f6 prima scelta del motore non ci posso credere che esiste f6 su cattura avrei dovuto giocare dice il motore è per f6 wow mai mai no non l'avrei penso mai fatta è vero che ria cavallo c4 però umanamente parlando qui che cosa ho giocato invece questa mi sembra tanto carina però non ho visto il sacrificio ne non l'ho visto qui è stato molto bravo non l'ha visto neanche lui lì al momento però l'ha visto dopo arriva questa cattura arriva questa qui dovevo giocare h6 assolutamente in effetti solo un pazzo può pensare che qui non accada nulla c'è troppa pressione c'è troppa pressione qui dovevo fare qualcosa su h6 lui avrebbe ritirato il cavallo e forse g5 neanche g5 ok cavallo c4 dice il motore va bene va bene va bene invece la partita è andata in questo modo qui bella eh qui cosa vuoi dire uno che ti fa un sacrificio così bravo alfiere g4 c'è alfiere g4 c'è alfiere g4 cattura cattura che questa roba dovrebbe compensarmi no vabbè questa roba non mi compensa minimamente ah perché poi catturi qui catturi qui però sullo scacco no ok probabilmente a gioco corretto in entrambe le parti questa era la partita migliore ma siccome non siamo due computer qui gioco si donna a5 non mi piaceva donna a5 perché gli faccio giocare cavallo c3 no cavallo c3 gli fai anche un favore si cavallo per b2 si cadeva il sostegno del cavallo ok non onestamente non l'ho analizzato ho giocato questa che è molto più lenta qui addirittura tutto per tutto a lui piace sempre alfiere g4 qui arriva il sacrificio adesso gioco ancora qui tutto per tutto terza scelta del motore la prima mossa era sempre alfiere g4 continuo a piacergli ma perché gli piace così tanto alfiere g4 che lascia lascia tutto va bene qui gioco scacchino vittoria mancata una mossa mancata prendo la torre arriva giù uh e questa mossa signori gli fa perdere la partita gli fa perdere la partita era meglio andare con l'alfiere se andava con l'alfiere io venivo qui e in che modo avrebbe potuto continuare cavallo g6 forzata e qui ok come minimo come minimo c'era ok cavallo e7 poi magari qualche qualche scacchino che non riesco a vedere bene dove ok questa però dopo pensa te una partita completamente vinta per il bianco qui siamo a più 5 e 83 questa mossa che sembra tanto do scacco come faccio a perdere se do scacco eppure la barra ha cambiato completamente colore e qui obbligata per me e qui avrebbe dovuto giocare come dicevamo donna f3 per dare uno sguardo qui e per evitare lo scacco su donna f3 comunque dice il motore che avrei avuto oh è fissato si l'avrei giocata comunque si perché questa volta questa volta c'è torre qui forse c'era anche prima però va bene e invece gioca questa arriva al fiere g4 e oddio rf2 prima risposta del motore perché col re in t3 c'è il matto in 11 che ovviamente ovviamente ho visto ok qui c'è sacrificio di cavallo perché mi dici di giocare ste cose perché io più umanamente avrei giocato ovviamente questa però si credo che ci sono vari modi donna d1 anche sembra essere interessante re in c3 donna in c1 beh se torna qui che succede a cavallo b2 matto questo è matto va bene diciamo che con due minuti senza incremento non sarei mai entrato in complicazioni di questo tipo e qui niente giocare f2 che a mia sorpresa è la mossa preferita del motore ma dopo questo ovviamente la regina è persa per lui il male minore è quello di prendersi la torre ma a questo punto ora è sotto anche l'alfiere e poi qui arriva tutto tra l'altro il cavallo non puoi mai muoverlo perché c'è sotto la torre non hai pezzi qui c'è un più 5 netto e senza alcun compenso del nero che comunque può iniziare a dare scacco e combinazione di donna su case scure e alfiere di case chiare secondo me escono cose interessanti bello come comunque partita fra due giocatori non precisi perché siamo stati tutto purché precisi precisione più bassa di così penso di non averla mai fatta in vita mia però è stata una partita divertente spero che vi sia piaciuta bene ragazzi se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare like un commento e se ancora non l'avete fatto perché solo il 35% delle persone che guardano i video di mattoscacco sono iscritti quindi il mio invito è iscrivetevi a voi non costa niente fare clap per noi invece vale veramente tantissimo un abbraccio e un salutone alla prossima